La situazione non è cambiata per niente, anzi sicuramente ci aspettiamo che peggiori. La sensazione è che alla ex caserma Serena non si è cambiato alcunché calma piatta insomma a fronte di impegni e annunci arrivati dai più alti rappresentanti delle istituzioni italiane. L'ultimo quello del ministro Minniti a Treviso martedì scorso. Cosa ha cercato? La strada più breve e invece la strada da percorrere è quella di interessare Putin, il presidente dell'Unione Sovietica che ha le mani sopra i governi libici. Il comitato dei cittadini di Dosson di Casier chiede perciò che chi di dovere si attivi al più presto per risolvere una situazione che rischia di degenerare. C'è scetticismo nel frattempo sull'annunciato piano del sindaco di Treviso Giovanni Manildo. È una mossa da campagna elettorale perché il sindaco deve ricordare che ha concesso più di 500 certificati di residenza e di identità così che questi qua saranno resi cittadini trevisiani invisibili, usciranno di caserma. E con gli sbarchi che non trovano sosta alcuna la prospettiva di ridurre il numero di richiedenti asilo all'ex Serena rischia di restare solo un miraggio. Uscite e entrate si compenseranno insomma. Il sindaco di Treviso dovrà accontentarsi di assegnare le case e assistere queste persone.